Sì, non mi sbaglio sicuramente. Vabbè. Il vento. Primo dialogo. Hai sentito che vento è stamattina? Mi sa che tra poco scoppia un temporale. Sta già cominciando a piovere. Meno male che siamo arrivati, se no il vento ci portava via. Va, esagerata. Chi lo sa come nasce il vento? È come uno, quando soffia con forza. Già, ma chi soffia? Ma qualcuno qualcosa ci sarà. Ho letto che gli antichi credevano in un dio dei venti. Ma se per questo anche in più di uno, a seconda della direzione da cui soffiava. Ma già, ma ci avranno proprio creduto. a seconda della direzione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.